Ragazzuoli benvenuti in questo nuovissimo video, sono TheGast91 e sono qui oggi per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo video Grazie mille per gli auguri, ma soprattutto voi iscritti che avete permesso tutto ciò ragazzi Ho raggiunto una tappa e non traguardo perché il traguardo è fine Tappa, tappa importantissima per il canale, 10.000 iscritti e spero sia solo l'inizio Per ringraziarvi voglio fare un contest ragazzi, di sottofondo come avrete notato ormai C'è un video che non c'entra nulla con quello che sto dicendo Ed è uno dei video che caricherò prossimamente Quindi ragazzi chi indovinerà dal solo labiale di che video si tratta Vincerà 30 pacchetti di ombre infuocate E questo lo faccio per ringraziarvi Un contest stupido ma è fatto con il cuore ragazzi Detto ciò godetevi il video Tanti auguri per i tuoi 10.000 iscritti E forse se mi preparavo una frase un po' più di effetto prima era meglio Quindi tantissimi augurissimi per i 10.000 iscritti Ok allora ragazzi questa parte la cancello se no perdo i pochi iscritti che ho Rialzeranno allora Salve a tutti ragazzi eccoci qui oggi con questo video per fare i grandissimi E forse se me la scrive è meglio allora ricominciamo Tanti auguri per i tuoi 10.000 iscritti Spero di raggiungere anche io 10.000 iscritti entro 88 anni prima di morire E niente tanti auguri e ci vediamo presto per Vabbè no non diciamo nessun spoiler se no Eccoci qui con tanti auguri per Diego che oggi compie 10.000 anni Perché 10.000 anni? Non ce la faccio non sono capace Niente auguri da me perché non sono in grado di fare un cazzo di messaggio di auguri per i 10.000 iscritti Cominciamo 10.000 iscritti Tanti auguri a Diego per 10.000 iscritti Questo era il Chuck 458 quindi credo che sono abbastanza esaurito Puoi capire il mio messaggio perché è così strano Quindi like, subscribe, share Mettete tanti like Tanti like che non puoi però metterne uno solo Ricominciamo Passate sul mio canale No scherzo ragazzi non mi faccio autospam Mi faccio solamente pubblicità Perché ho tantissime confezioni da aprire Speciale 10.000 iscritti Traguardo l'aggiunto per te Ora manco solo io Tutti gli altri Ne ha 31 Diego Oh bro sono quasi a 10k Sì ma cosa Scherzi a parte auguri bro Veramente auguri perché 10k è un gran traguardo Ancora auguri Mi raccomando Continua così Che sei fortissimo Ciao a te E a tutti i tuoi iscritti da Zeco Ciao Diego Sono Sespo E voglio farti le mie congratulazioni Per i tuoi primi 10.000 iscritti Dico primi 10.000 iscritti Perché sono sicuro che Ne farei molti altri Adesso testa e cuore Per i 50.000 Mi raccomando In bocca al l'uo per tutto Continua a portare Ciò che ti piace Ciò che vuoi te Basta che ti diverti Testa e cuore In bocca al l'uo per tutto Un bacione L'importante è divertirsi Da Sespo è tutto Bella cucciolo Bene Finalmente sei arrivato a 10k Auguri Ora devi arrivare al milione E hai esattamente un mese Prima che scoppi tutto Quindi Andiamoci da fare Il famoso video Che Diego mi ha dato I bigliettoni grossi Mi ha fatto Per pagamento serio Via Bella regala a parte Un attimo ste cazzate Volevo prendere questi Pochi secondi Pochi minuti Non so quanto tempo Avrò Per fare i miei auguri A Diego Che ragazzi Ha raggiunto Finalmente La cifra Dei 10.000 iscritti E ragazzi È un grande traguardo È uno dei primi Traguardi Che si possono raggiungere Il primo È i 1000 E l'ha raggiunto Dopo un po' di tempo Che comunque Era su youtube Poi è andato sempre A salire Fino ad arrivare Adesso Ai 10k E ragazzi Se li è davvero Sudati tutti quanti Se li è meditati Tutti quanti E da qui Ad andare Sempre più in alto Passerà pochissimo tempo Secondo me Almeno Guardando un mio parere Personale Ragazzi Quindi niente Io ti auguro Di andare avanti Fra Di continuare Sempre che i video Di non lasciare mai Da parte Insomma La passione Che ci metti Di continuare Di essere sempre Te stesso Di non montare Mai la testa Di essere sempre La persona onesta Che sei E che sei stata Fino ad adesso E niente Non mi resta Nient'altro Da aggiungere Penso che Ho detto più o meno Tutte le cosette Che dovevo dire Un bel salutone E un bacetto Bella Ed eccomi qua Anch'io ragazzi A fare gli auguri Al nostro caro Diego Per i suoi 10k Che è un grandissimo Traguardo Spero che Arriverai 50 100 200 Poi ci offrirai Da mangiare Da bere Perché Te lo puoi permettere Te lo potrai permettere Detto questo Vorrei ringraziare Anche non solo Come youtuber Ma anche come persona Perché Ormai ci sentiamo Tutti i giorni E lo conosco Ormai da un annetto e mezzo Vi posso dire che è un grandissimo Lavora un sacco Per fare dei video Belli Quindi Si è meritato Questi 10k E Ormai come Ogni festa Che Che si chiama tale Non può non esserci una torta E quindi Non potendogliela portare di persona Ho deciso di disegnarla Ed ecco qua La torta Per Diego I 10k Ragazzi con le candeline A forma di Cazzetti Perché a Diego Piace E quindi Ragazzi Lasciate un bel mi piace Tanti auguri Diego Al prossimo traguardo OI Dieguzzo Mi trovo immerso Nella sessione estiva Infatti Sono combinato Veramente male Ma questo Non mi ha fermato Nel farti gli auguri Per i 10k Iscritti Bello Prossimo passo 100k Mi raccomando Ciao Anche da parte Gli scombaos Ciao Diego Volevo farti gli auguri Per i tuoi 10k Iscritti Da parte di Tony Tubbo Complimenti Per questo traguardo Ti auguro Di Sfondarne altri Di traguardi Magari anche Quello dei 100k Veramente Che è bellissimo Il fatto che ti danno Pure il quadro Quindi Spero che ci arriverai E niente Ti auguro il meglio Continua così Su questa piattaforma Che bella grande Ciao amico mio Tantissimi auguri bro Da Mad Damage Complimenti Per aver raggiunto I 10k Iscritti Un traguardo Che reputo Veramente importante Continua così Non mollare mai E grazie per tutti i video Che ci porti Ciao Gnaro Bella rega Bella Diego Qui è Cocinino 98 Che parla Anzi Forse è proprio Edoardo Perché questo è un discorso Di cuore Ma voglio essere Sinceramente Molto breve Perché so che Gli youtuber in questo video Non sono pochi Essenzialmente Come prima cosa Volevo fare Tanti 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 auguri Per il raggiungimento Dei 10k Iscritti Sul canale Di Diego S91 E' un traguardo Ma è anche un inizio Ovviamente Anzi E' più un inizio Che un traguardo Si sa che canali Come il tuo Sono destinati A continuare a crescere E non Affermarsi Io di E lo sai Come abbiamo cominciato A parlare Ero un tuo fan Prima Praticamente Dell'apertura Del mio canale Quando ho aperto Il mio canale Così una volta Ti ho scritto E dico Tu non lo sai Forse tu questo Non te lo ricordi Ma io ti scrissi Tu non lo sai Un giorno Noi faremo un video E da lì Abbiamo cominciato A parlare E siamo riusciti A fare un video Insieme E si è stretta Una nemicizia Tra noi A parer mio Cioè Per quanto mi riguarda Molto molto forte E quindi niente Volevo fare gli auguri a Diego Volevo salutare a tutti voi Mi raccomando Supportate sto ragazzo Che veramente Fai buchi De culo E siamo arrivati A 10.000 Ma come ho detto È solo l'inizio Qui da Coccino Novantutto È bella Diego E non lo so Road to Un botto Dei scritti Regà Ho proprio un botto A pari di scherzi Auguri Die Sono contentissimo Sei fratello A voi